L'arrivo di Giovanni Legnini a Teramo per fare il punto sulla ricostruzione dei territori colpiti dai sismi del 2016-2017. Ad attenderlo anche un gruppo di sfollati del territorio teramano, i quali hanno chiesto al commissario straordinario per la ricostruzione quali tempi per ulteriori sviluppi. Per noi oggi è un incontro di lavoro, di confronto, di esame dello stato delle procedure e naturalmente poiché si svolge a valle dell'emanazione di questo decreto cosiddetto semplificazioni, dentro il quale vi sono procedure accelerate generali e c'è anche una norma più specifica che riguarda poteri eventuali, aggiuntivi, speciali per il commissario. Discuteremo con la Presidente, discuteremo con il Sindaco, discuterò con il Presidente della Regione, mi confronterò con il Presidente della Regione per vedere se e in quale misura e per quali interventi attivare queste procedure di semplificazione e di accelerazione. Il nostro comune obiettivo è questo, cercare di far partire i cantieri prima possibile. Parliamo di tempi brevi quindi? Ma guardi, glielo so dire dopo l'incontro, forse la Presidente può dire, ciò che è certo è che le norme generali specifiche contenute nel decreto sono destinate ad abbattere i tempi, di quanto, non lo sappiamo, dipenderà dallo Stato. Legnini si è poi soffermato anche sulla situazione del decreto semplificazione che ha tirato in ballo l'assessore regionale Liris i giorni scorsi. Forse l'assessore Liris con il quale vi è piena collaborazione intende riferirsi alle altre norme, quelle sul personale, quelle sullo sviluppo dell'economia, ma quelle, l'ho detto perché è il governo che si è impegnato in questo senso, andranno nell'altro decreto perché richiedono copertura finanziaria, in questo decreto non ci sono norme avendo un effetto finanziario. Grazie a tutti.